Allora, investo questi 139 euro comprando gli airpods della Apple, volevo farmi un regalo. Premetto, io sono dalla vecchia scuola, quelli che dicono no ma l'auricolare col filo funziona, poi facendo degli origami, tipo durano una settimana al massimo gli auricolari col filo, dopo che lì si strappano da soli, quindi però pensavo che gli airpods avessero una proprietà intrinseca, cioè nel momento in cui li inserisci diventi uno stronzo, un manager, un manager stronzo, cioè è come quelli che mettono le hogan, è una proprietà intrinseca, diventano subito dei coglioni, è una cosa... e non avevo uscito da questa tentazione. Così, non volevo attendere, sono andato da MediaWorld, da MediaWorld, dico li voglio toccare con mano questi airpods e ho visto che da MediaWorld, vabbè MediaWorld lo conoscete tutti, i commessi vengono presi con una sola caratteristica, cioè non devono stare mai nel proprio reparto, è una proprietà che devono avere, cioè io ho avviato una petizione su change.org per bloccarli con dei blocchetti di cemento e siamo arrivati già a 100.000 firme, comunque compro questi airpods 139 euro, felicissimo, vado a casa e nel giro di 48 ore li perdo, è il karma, vi devo dire pure la dinamica, sono andato a Salerno, quindi mi sposto 83 chilometri a sud da Benevento, entro in un parcheggio, metto la macchina in mezzo a due autovetture, nell'aprire la portiera mi cade la centralina di ricarica che contiene gli airpods sotto la macchina accanto e c'era poco spazio, quindi non potevo calarmi, metto solo la mano, prendo la centralina e la rimetto in tasca perché era giusa. Ora, santo Steve Jobs, la buonanima, ha fatto tutto in maniera magnetica, quindi nel momento in cui arrivo a Benevento, apro la centralina di ricarica e scopro che non c'erano più gli airpods, cioè era come avere le palle senza il cazzo, cioè non te ne fai niente, ok? Va bene. Bestemmio, tiro calci all'aria, io quando mi incazzo faccio queste cose come cartone animale, affanculo, e dico, oh ma adesso devo spendere di nuovo 139 euro, cioè mi sembra veramente una follia. Mi metto l'indomani nel treno diretto qui a Milano e rimetto nelle orecchie i vecchi auricolari, quelli col filo, di cui uno non funziona più e quando non funziona un auricolare puoi fare solo il buttafuori, se no che cazzo fa? Dico, vabbè, audio pessimo, sentivo il mare, cose assurde, devo ricomprarli, però dico altri 139 euro, mi sembra una follia. Arrivo a Milano, vado prima sul marketplace di Facebook, che non so se siete, è una sorta di deep web, c'erano solamente macchine rubate, bambini cinesi in vendita, pistole con la matricola a brasa, dico, no, non va bene, decido di andare su subito.it, subito.it, avevo fatto già dei buoni affari in passato e trovo questo annuncio che era, sembrava fatto per me, quindi sì, due airpods, prima generazione, no centralina di ricarica, no cavo di alimentazione, no documenti, dico, vabbè, si saranno allineati i pianeti. Lo contatto, mi dice, dico, guarda, abbiamo una breve conversazione con questo ragazzo che si chiama Luca, dico, vorrei provarli, perché sai, sì, sì, non ti preoccupare, vieni a provarli. Ci troviamo alla Metro Bisceglie qui a Milano, io venerdì vado alla Metro Bisceglie, arriva Luca con una Toyota Yaris, non so perché l'ho detta questa cosa, la Toyota Yaris, completamente ininfluente al fine, però ormai l'ho detto Toyota Yaris, vabbè, cercherò di farla entrare nel racconto. Allora, scende Luca dalla macchina, io mi ero pure informato su Salvatore Aranzulla per vedere come allineare degli Airpods che non sono tuoi alla tua centralina di ricarica. Salvatore Aranzulla, adesso è John Cena, non so se l'avete visto, per fare wrestling. Vabbè. Salvatore dice che per allineare degli Airpods non tuoi alla tua centralina devi tenere premuto 5 secondi, dopodiché potrai dare un nome ai nuovi auricolari. Scende Luca, ciao, ciao, ciao. Dico, posso metterli dentro? Sì, sì, fai pure, non ti preoccupare. Metto gli Airpods all'interno e vedo che si sincronizzano automaticamente col mio nome originale che avevo dato. Li rimetto, li leo, li rimetto, dico no, non è possibile. Cioè, però a quel punto puoi fare due cose, o far finta di niente, oppure attaccare. Attaccare, ma era troppa la distanza, 800 km, non è possibile. Decido di attaccare, tiro fuori 20 euro da una tasca, ma non so per quale motivo. E dico, Luca, questi auricolari sono miei, pezzo di merda. Tu li hai trovati a Salermo. Vedo che fa un passo indietro, il passo indietro è chiaro segno, no? Chiaro segno di paura. No, 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 questo mi ha dato il mio cugino. Accendo Campano, non c'è la centralina di ricarica, l'imbuto si fa sempre più stretto. Dico, questi sono miei, pezzo di merda. Tu li hai trovati a Salermo, no, no, mi ha dato il mio cugino. Prenditi questi 20 euro e vai via, capito? Adesso tu scappa perché ti sto facendo le foto alla Toyota Yaris e ti denuncio perché... Ti denuncio perché nessuno ha mai perso una causa con una Toyota Yaris, va bene? Adesso te ne vai. Lui si mette in macchina e va via. E io resto con gli Airpods dentro la mia centralina di ricarica. Mi metto in macchina, sto 5 minuti fermo a pensare, ma che cazzo mi è successo? Cioè, non è possibile. In una scala da 1 a 10, quanto sono stato fortunato? Credo 10, giusto? Perché è impossibile questa cosa. Dico, è impossibile. Cioè, 1 a 10, 10, ma non ero felice. Perché dico, ma come cazzo? Ma gli ho dato pure 20 euro. No, dico... Però ho capito, ho detto, ma se io sono stato fortunato da 1 a 10, 10, ma lui quanto cazzo è stato sfortunato? 100! Io già me l'immagino nella macchina, mentre tornavo a casa, e dicevo, ma che cazzo? Ma che c'erano le telecamere? Ma che... Ma che... Ma chi c'era? Moreno Morello? Chi c'era? Chi c'era? Chi c'era? Chi c'era? Chi c'era?